Guarda questa cattedrale, viaggio lungo, questo museo, troppo lontano, ma allora dove andiamo? Internet, cosa digito? Monumenti, monumenti, cattedrali, siti archeologici, monumenti. Un film altro. Guardiamo da. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS. Brescia mi hai convinto. Hai convinto anche me?